Il contagio continua a dilagare tra i giovani e rischia di portare con sé la zona rossa. A rimarcarlo oggi è stato anche il governatore Massimiliano Fedriga, che ha fatto presente, come si noti, un aumento dei casi nella fascia d'età 11-24 anni e la ragione della scelta della didattica a distanza per medie superiori. È chiaro però che se dovesse arrivare alla zona rossa, rischiamo di dover chiudere, come prevede il DPCM, anche le scuole di grado più basso. Ha sottolineato il presidente a fronte di dati che sono sempre molto preoccupanti, soprattutto nelle ex province di Udine e Gorizia. Tra gli ultimi provvedimenti presi, la chiusura nel capoluogo isontino, a tempo per ora indeterminato, del nido Il Giardino Incantato di Via Pasubio. E mentre da parte della FLC-CGL arriva una forte critica sul ritorno in didattica a distanza di tutte le scuole medie superiori, scelta secondo il sindacato mai discussa e condivisa, sulla questione scuole è intervenuto oggi anche il vice governatore Riccardo Riccardi. Non tanto la scuola in sé, quanto la popolazione scolastica ha avuto un aumento significativo del contagio. Le persone più giovani sono un veicolo a volte inconsapevole di trasmissione del contagio, in particolare nelle categorie fragili. Allora è evidente che fino a quando noi non completeremo anche tutta la fase delle persone più fragili, che sono le due categorie principali, gli over 80 e quelli che è l'area della vulnerabilità, quindi le fragilità, è chiaro che noi mettiamo a rischio la salute delle persone. Oggi intanto i nuovi contagi sono 415, messi in luce grazie a 3.546 test, tra molecolari e rapidi antigenici. La percentuale di positività balza così al 12,8%. Con 19 nuovi decessi, il totale di coloro che non ce l'hanno fatta, a causa del Covid, sale a 2.929. Dieci più di ieri sono i ricoveri ordinari, quindi in totale 457, mentre le terapie intensive salgono di una unità a 58.